E se io volessi fare il pasticcere? Pasticcere? Sì, ho già inventato dei cioccolatini con il nome dei miei testicoli ma non posso venderti perché devo essere per forza un genio della musica! Amadeus, se io non mi fossi accolto del tuo genio, tu a questa ora staresti sui marciapiedi di Salisburgo a vendere questi tuoi testicoli! Però me lo sarei felice!